E al giro di Boa, il Salone Internazionale del Libro a Torino, da non perdere i tanti incontri in programma con Corrado Augias, Stefano Mauri, Francesco Pannofino, Mauro Corona, Alessandro Barbero, Selvaggia Lucarelli, Alessandro Michele, Emanuele Trevi ed ancora Roberto Saviano, Zero Calcare, Paolo Sorrentino, Alessandro Michele, Claudia Durastanti. Quello che vivremo in questo weekend sono i grandi eventi anche per il Salone Off. Lo scrittore Oram Pamuk incontra il direttore del Museo Egizio di Torino, Cristian Greco, al Teatro Carignano. Al Piazzale Lingotto, invece, la Red Parade, la sfilata letteraria del tedesco Lingua Ospite. Presenti anche Elisa De Marco, Big Mama, Luca Bizzarri, Stefano Senardi, Manuel Agnelli ed ancora Gianluca Grignani, Enrico Ruggeri e tanti ma tanti altri. Insomma, un Salone Internazionale del Libro assolutamente da seguire. Si chiude lunedì 13.